e tra la gente invitata a mangiare c'è anche uno famoso sportivo che abita qui vicino a Pesaro sì, ciao a tutti, sono venuto qui a cena con la donna perché era l'unico posto aperto in Italia e anche se ho mangiato di merda sono contento lo stesso perché essendo in 90 abbiamo fatto anche un po' di sportellate tra i tavoli e allora qui da Pesaro è tutto, però Valentino vuole dire una cosa sulle mascherine sì perché in televisione ti dicono mettiti la mascherina ma non ti dicono che dopo 5 ore la mascherina la devi buttare che non è più buona e non serve a niente e capita spesso di vedere gente che sul davanti della mascherina ha delle strisce nere allora le cose sono due, o non ve la cambiate da 15 giorni o non avete capito che la mascherina bisogna metterla in faccia e non nel culo va bene rispettate le condizioni